Signori buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai, io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. Nel video della settimana scorsa e anche in quello della settimana prossima parliamo del tesoro del D20 e di quali siano le conseguenze meccaniche del tesoro all'interno del sistema. Però il tesoro meccanico è qualcosa di tipico non diciamo esclusivamente del D20 ma solo di una categoria di giochi molto pesanti sulla gestione delle risorse e delle meccaniche. Nella maggior parte degli altri giochi il tesoro non è così rilevante dal punto di vista meccanico quanto lo è dal punto di vista narrativo e in alcuni giochi il tesoro è rilevante solo dal punto di vista narrativo. Questo però non vuol dire che nei giochi che non abbiano una preponderanza meccanica il tesoro sia qualcosa di inutile e insignificante. Un nuovo equipaggiamento o una nuova arma potrebbero avere un significato narrativo molto interessante e anche molto profondo indipendentemente dalle conseguenze che questi oggetti possono avere nella meccanica a patto che ne abbiano uno. Se riuscite a rendere i tesori che il vostro party trova interessanti di per sé tutto il mondo di gioco ne verrà approfondito e ne verrà migliorato. Di conseguenza questa settimana andiamo a vedere come rendere i vostri tesori interessanti. Del tesoro e della sua utilità per il master e per i giocatori abbiamo parlato non solo la scorsa settimana ma anche in una vecchia serie di video più o meno è l'anno scorso. Ve la linko qua in alto se dovete andarvela recuperare. Prima o poi devo mettermi a fare una playlist divisa per argomenti ma non è questo il giorno. Ho sentito molto spesso i master lamentarsi del fatto che i loro giocatori non diano alcuna importanza ai tesori, all'equipaggiamento, agli oggetti magici o quello che è ma che li vedono semplicemente come un modo per far salire i numeretti sulla scheda del personaggio. Sarà scontato ma questo molto spesso non deriva da una mancanza da parte dei giocatori ma da un pessimo lavoro da parte del master. Se voi in primis non fate in modo di rendere interessante quell'equipaggiamento e non fate nulla se non concepirlo come uno dei valori meccanici all'interno del profilo del mostro o uno dei bonus meccanici da conferire ai giocatori ovviamente i giocatori non lo terranno interessante. Se per voi quell'equipaggiamento non influenza il mondo di gioco al di là dei numeri ovviamente anche per i vostri giocatori l'unica cosa interessante saranno i numeri. Questa comunque di per sé non è una cosa negativa. Non necessariamente un oggetto deve essere sempre interessante e rilevante ai fini della storia. Anzi probabilmente la maggior parte dell'equipaggiamento degli oggetti che i vostri giocatori utilizzeranno non avrà alcuna rilevanza nella storia se non quella meccanica ed è perfettamente giusto così. No non c'è bisogno che i giocatori diano un nome alla loro pozione di cura o a ogni singolo chiodo e la loro corda per arrampicarsi. Esistono però oggetti importanti per la storia e il master dovrebbe sempre fare in modo che l'attenzione dei giocatori si focalizzi su di essi al di là di quello che valgono per i loro personaggi ma rendendoli elementi descrittivi e elementi narrativi veri e propri. Ovviamente per ottenerlo ci sono varie tecniche. Il modo più semplice e veloce per fare in modo che i vostri giocatori si interessino al tesoro al di là di quello che è il suo mero scopo meccanico e farne una buona descrizione. Non parliamo tanto dei dettagli tecnici dell'oggetto ma proprio della sua estetica. Uno scudo descritto come uno scudo pesante di metallo più due potrebbe attirare l'attenzione del giocatore che usa gli scudi pesanti di metallo ma difficilmente sarà interessante al di là del suo valore meccanico cioè conferire un bonus di scudo. Lo stesso identico scudo descritto come un antico scudo magico forgiato alla maniera dei cavalieri templari che porta sulla sua araldica il grifone fiammeggiante simbolo della casata dominante delle terre del sud andrà a essere molto più di impatto su quella che è la storia del mondo molto più impatto su quella che è l'immaginazione dei giocatori e quindi non solo essi potranno averne un'immagine mentale migliore ma potranno anche essere incuriositi anche se loro ovviamente non usano gli scudi o non sono interessati a cambiare il proprio scudo. Questo è essenziale soprattutto per quegli oggetti che non hanno un loro peso meccanico o cui peso meccanico è molto limitato. Se uno scudo magico anche se non descritto può comunque tornare utile perché uno scudo sarà molto difficile che i giocatori si interessino a quello che è un oggetto d'arte un dipinto una statua o un qualsiasi altro mcguffin sarà importante ai fini della vostra quest sia come tesoro sia proprio come oggetto che fa procedere la narrazione. Per un giocatore sarà molto facile ignorare un idolo d'oro da 200 monete o la valigetta con i documenti che dovete consegnare ai png. Sarà molto più interessante trovare un'antica statua nanica in oro massiccio che rappresenta la divinità della forgia e una valigetta di pelle con una complessa serratura elettronica su cui è riportato il logo dell'alleanza planetaria. In questo modo i giocatori avranno l'impressione di interagire con un vero oggetto e non semplicemente un placeholder che è stato messo lì semplicemente per assumere uno scopo meccanico all'interno della narrazione. Questo ovviamente ci conduce al secondo motivo per cui gli oggetti possono essere interessanti e il secondo uso che potete farne voi come master all'interno della vostra storia, cioè usandole come elementi di world building. Gli oggetti non esistono nel vuoto e difficilmente vengono spontaneamente generati, anche se quello li renderebbe veramente interessanti al punto di vista del world building. La maggior parte degli oggetti dietro ha comunque una propria storia, una propria origine e una propria manifattura che ha fatto in modo che siano presenti in quel momento, in quel posto nel mondo di gioco. Sfruttate questi oggetti sia per ricordare ai giocatori elementi del mondo di gioco, sia per giustificare la presenza di quegli oggetti nel mondo e focalizzarci l'attenzione dei giocatori. Un particolare manufatto per esempio potrebbe essere particolarmente potente o comunque avere un particolare valore perché viene da una specifica ambientazione, uno specifico posto all'interno del vostro mondo di gioco che magari è proprio famoso per la manifattura di quei particolari manufatti. Gli elfi potrebbero essere famosi per la qualità dei propri archi, i russi per quella dei propri limitagliatori e i centauri per quella dei propri vestiti. Molto spesso gli oggetti portano qualche tipo di insegna che ne indica la provenienza della manifattura, che potrebbe essere il blasone di una particolare casa anubiliare o di un particolare regno all'interno del vostro mondo di gioco, quanto potrebbe essere la marca di una particolare ditta. Magari tutte le armi in adamantio vengono da un regno famoso per la loro produzione, mentre quella specifica megacorporazione è particolarmente famosa per la qualità dei suoi oggetti di microelettronica. Questo potrebbe essere integrato anche in maniera diretta all'interno del mondo di gioco. Mentre gli avventurieri viaggiano sull'autostrada vedono le pubblicità di quella megacorporazione e quando si fermano nella locanda insieme a loro sta facendo la sosta anche una carovana di mercanti che viene dal famoso regno delle armi da adamantio. Tutto questo servirà a dare l'impressione ai giocatori che quegli oggetti fanno parte in maniera organica di un mondo più vasto e hanno un significato e una logica che li rende importanti all'interno di quel mondo allargato, al di là del loro uso per attivare un particolare potere, una particolare abilità, far salire un modificatore o quello che è. Un altro modo classico per attirare i giocatori verso un particolare oggetto è non solo quello di fare in modo che abbia un aspetto interessante all'interno del mondo di gioco ma che abbia a sua volta una storia che sia importante per lo sviluppo del mondo di gioco stesso. Pensate all'unico anello del Signore degli Anelli, è un elemento fondamentale della mitologia dell'intera ambientazione. Buona parte della storia del mondo ha a che fare con la sua creazione e i vari passaggi di mano che ha avuto nel corso dei secoli ma nonostante per tutto il romanzo venga detto che conferisce poteri incredibili a chi lo trasporta, l'unico effetto meccanico che gli si di avere nel ciclo dei romanzi è quello di rendere invisibile il portatore. Sicuramente l'unico anello non è interessante all'interno della storia perché permette a Bilbo di non essere annoiato dai suoi parenti all'inizio del libro. All'interno del vostro mondo, della vostra ambientazione, qualunque oggetto potrebbe diventare un oggetto particolarmente significativo per la storia del mondo. Quella non sarà più una mazza più tre ma sarà flagellatrice lo scettro con cui il grande re combatte l'orda dei demoni alla battaglia dei picchi scoscesi. I giocatori si sentiranno gratificati dal fatto che i loro personaggi trasportano un antico artefatto magico e si sentiranno onorati e interessati a proseguire la storia dell'oggetto leggendario al di là di quanto questo sia effettivamente potente e utile ai loro personaggi. Oggetti del genere potrebbero essere presi dal retroscena agli stessi personaggi, magari il guerriero del vostro gruppo combatte utilizzando la spada del padre che si è tramandata nella famiglia da generazioni. Ottimo, integrate la storia di quella spada nella storia generale del vostro mondo in modo che essa diventi interessante non solo per il retroscena del guerriero ma magari per la trama o comunque che sia qualcosa che causi meraviglia anche agli altri giocatori del party. Siate anche furbi a sfruttare oggetti del genere che potrebbero venire a emergere spontaneamente dalla narrazione nel corso del gioco. I giocatori magari si affezioneranno particolarmente a la prima arma magica che hanno recuperato, al mulo che tira il loro carretto, alla prima astronave che sono riusciti ad abbordare e conquistare. Siate furbi, fate in modo che questi oggetti a cui i giocatori sono già affezionati e per cui provano già un interesse diventino parti fondamentali o comunque parti importanti della narrazione all'interno del mondo di gioco. Ovviamente non potete aspettarvi che ogni singolo oggetto trovato dal party sia da loro ritenuto importante e fondamentale o che sviluppino un attaccamento per ogni singola pozione di cura o caricatore di munizioni che trovano, ma se siete sufficientemente bravi a focalizzare l'attenzione dei giocatori su quello che voi ritenete essere veramente importante per la storia e al contempo a capire quello che i giocatori ritengono importante e sfruttarlo integrandolo nella nostra narrazione, a quel punto molto probabilmente anche il tesoro aiuterà a rendere organico e compatto quello che è il mondo di gioco e a renderlo vivido nella testa dei giocatori. Diciamo che per questo video è tutto, come sempre mi piacerebbe sapere da voi come fate a rendere più interessanti gli oggetti e il tesoro nelle vostre quest o se siete dei giocatori cosa fa il vostro master o cosa vi piacerebbe veder fatto al vostro master per rendere gli oggetti nel gioco più interessanti. Come sempre se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e condividetelo che aiuta a crescere il canale, schiacciate il tasto della campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il master CAE, noi ci vediamo al prossimo video.